Ciao a tutti, io sono Giorgia e in questo video vi mostrerò come fare i pancake. Prima di tutto ci vogliono 100 g di farina e un cucchiaino di lievito setacciati, poi 40 g di zucchero e un uovo e 100 ml di latte. Per iniziare dobbiamo battere uovo-uovo e zucchero. Allora, finito di mescolare, aggiungiamo piano piano la farina e il lievito setacciati. Allora, dopo che abbiamo mescolato la farina e il lievito con l'uovo e lo zucchero, si deve aggiungere il latte a fili al filo. Quando l'impasto diventa omogeneo, possiamo procedere alla cottura. Allora, poi nella padellina ho messo l'olio, ho messo un filo d'olio che ho sparto per tutta la padellina. Ora, con il colpino, inizio a mettere un po' di impasto nella padellina. Io faccio pancake piccoli, perché mi piacciono e ne vengono anche di più. Si abbassa un po' la fiamma. E si aspetta che il pancake faccia sopra le bolle. Allora, adesso vediamo con la spatola se si può girare. Ma penso proprio di sì. E' venuto un pochino bruciato questo. Ma è buono comunque. Ok, ho messo un altro po' d'olio e adesso vado a mettere altro impasto. Cerco di farlo dire alla forma. E abbassa un po' la fiamma. Ok, adesso stacco i bordi e aiuto l'oggio, è venuto perfetto questo. Vedo un pochino com'è venuto. Perfetto. Allora, i pancake sono pronti. Si possono mangiare con una sploverata di zucchero a velo sopra, della nutella, del miele, della marmellata, tutto quello che volete. Comunque vi assicuro, sono ottimi. Ciao! Ciao!